Il Consiglio Comunale di Isernia è stato convocato per venerdì tra gli argomenti più importanti all'ordine del giorno la contestazione in via definitiva della causa di incompatibilità nei confronti del Consigliere Comunale Claudio Falcione ovvero una proposta di annullamento della precedente deliberazione che segue il parere reso dalla Prefettura il 20 ottobre riguarda la mancata stenzione ai sensi dell'articolo 78 del Tuel del Consigliere dal prendere parte alla discussione concernente la contestazione della causa di incompatibilità per un contenzioso tuttora pendente presso il Tribunale di Campobasso tra Falcione e il Comune di Isernia avente ad oggetto un credito da lui vantato nei confronti dell'ente Nel parere viene evidenziato che Falcione non si è astenuto dalla votazione della proposta di contestazione definitiva della sua causa di incompatibilità nella quale il suo voto è risultato determinante per deliberare la mancata approvazione l'ufficio di governo chiarisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che è all'ite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il Comune o la provincia insomma venerdì andrà di nuovo in scena la battaglia legale e amministrativa tra Castrataro e Falcione il primo vuole il suo ex consigliere di Isernia Futura fuori dal Consiglio il secondo resiste, vota contro e cerca alleati per bocciare di nuovo in aula l'incompatibilità che succederà? Venerdì a Palazzo San Francesco il centro-destra approfitterà della vicenda per tentare di mettere in difficoltà e minoranza il centro-sinistra chissà, tutto è possibile ma certo è che Castrataro e i suoi nemici politici li sta trovando soprattutto tra le sue stesse fila prima Francesca Scarabbeo, poi il virabarone oggi Claudio Falcione insomma fa tutto da solo la maggioranza stessa di fronte ad una minoranza che oggettivamente non sa approfittarne non sa approfittare